Approfittare della crisi del PD per affondare il colpo alle prossime elezioni regionali e comunali che si terranno in Emilia Romagna nel 2019. La Lega punta a guadagnare terreno sul territorio a partire dalla poltrona della Presidenza della Regione. Ne ha parlato il Sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, durante la presentazione della festa della Lega che si tiene a Cervia. Le elezioni comunali e regionali sono dietro l'angolo, siete pronti? Noi siamo sempre pronti, non abbiamo mai terminato la campagna torale, ma la termineremo, nel senso che comunque cambiare la Romagna e farla diventare, o a maggior ragione e con ancora più entusiasmo l'Emilia Romagna, sarà un obiettivo principale. Le elezioni regionali del prossimo anno ci vedranno sicuramente protagonisti, siamo pronti, c'è un territorio fertile, vedo Bonacini in grande difficoltà e quindi ciò naturalmente non mi fa dispiacere e penso che dopo tanti anni un cambiamento possa essere utile e come dico anche in tanti comuni dove magari la sinistra governava da tanti anni e poi è nato il governo centrodestra, le cose sono cambiate, un governo alternativo alla sinistra penso sia un qualcosa di positivo. Il parlamentare Romagnolo ha spiegato le priorità del governo sul fronte carceri annunciando novità per il personale giudiziario. Sicuramente tutelare chi lavora nelle carceri, quindi le forze di polizia, le forze dell'ordine, la polizia penitenziaria in particolare è un principale punto del governo, quindi sicuramente mettere a sicuro che ci lavora. Quindi mi auguro che nel più breve tempo possibile siano sempre meno le aggressioni e si è sempre assicurata maggiore sicurezza per quanto riguarda chi ci lavora dentro. Sicuramente l'obiettivo è quello di non portare avanti i svuotacarceri, ma è quello di fare scontare sicuramente la pena a chi ha commesso, comunque a chi ha sbagliato nella vita. La notizia buona di oggi è che altri 420 assistenti giudiziali verranno assunti in questi giorni, quindi verranno ricollocati. Fra l'altro 18 sono proprio in Emilia Romagna.